Ragazzi, immaginate la frustrazione alla quale vanno incontro i piloti. Mettetevi nei loro panni. Allenamenti costanti, pressioni di tutti i tipi, lo stress di dover performare altrimenti a rimanere a piedi è un attimo, infortuni che sono sempre dietro l'angolo. Insomma, tanto lavoro, tanto sudore, tanti sacrifici per un solo scopo. Vincere. Essere il vincitore di un weekend. E poi che succede? Arriva uno che senza particolari allenamenti e senza doversi misurare in pista con nessuno, semplicemente indossa la maglietta più bella del mondo, vi ruba la scena e diventa di fatto il vero vincitore del weekend in Thailandia. Cioè, capite? Deve essere frustrante per un pilota. NordVPN è lo sponsor di questo video. Andate su nordvpn.com slash talking helmet per ricevere uno sconto esclusivo sui piani biennali più 4 mesi extra. Avete sempre 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati? Provatelo. Grazie Nord. Allora, inutile girarci intorno. Secondo me, quello della Thailandia è stato il Gran Premio più bello della stagione e anche, non sto esagerando, uno dei Gran Premi più belli degli ultimi X anni. Non so quanti, ma era da un po' che non si vedeva una gara così. Perché, ragazzi, non è stato un Gran Premio con emozioni facili, diciamo, no? Tipo che si mette a piovere o che c'è qualche sportellata controversa o cose così. Niente di tutto questo. È stato un Gran Premio dritto per dritto. Asciutto. Moto più equilibrate del solito tra marchio e marchio. Quindi più piloti con qualcosa da dire. Nessun incidente controverso. Niente drama. Solo ed esclusivamente un malloppo di piloti in lotta l'uno contro l'altro, dall'inizio alla fine, che si sono scornati nei limiti della decenza, però senza sconti per nessuno. E senza esclusioni di colpi. Pensate, per esempio, a come sono stati trattati i due in lotta per il mondiale. Francesco ha dovuto fare a cazzotti con 4 o 5 piloti, incluso per esempio Marini, che l'ha fatto sudare e rischiare non poco. E Martin si è fatto tutta la gara con Binder dietro. Ma non un Binder qualunque. Era un Binder con più voglia del solito ed era più incarognito del solito. Quindi capite che non ce l'ha avuta facile nessuno in Thailandia. Il risultato è stato un Gran Premio che va salvato in doppia copia e messo nella collezione Il motociclismo è bello, episodio 1560. Fantastico. E la cosa bella è che alla fine per un verso o per un altro erano tutti contenti. Perché sia i vincitori che i vinti si sono divertiti. Vabbè, per tutti intendo quasi tutti. È stata una gara... Sicuramente la gara più dura della mia vita. Non poteva, da metà gara in avanti non poteva respirare. La moto tirava un caldo impressionante. Anche Raul ha perso tanto tempo la seconda metà gara perché non poteva respirare. Maverick si è ritirato perché neanche vedeva davanti. Io non lo so, i ultimi due giri come... come... vado avanti. La mia moto genera tanto caldo. Eh sì, Aleish non era contentissimo. Anzi, il contrario. È successa roba simile anche in passato. Succede ancora oggi nel caso dell'Aprilia. Sembra una storia assurda, quasi esagerata, ma è così. È realtà. Non riuscivo a respirare, ha detto Aleish. È stata la gara più dura della mia vita e negli ultimi tre giri sono andato nel panico perché provavo a respirare e non ci riuscivo. Quando sono arrivato al box pensavo di morire. È stata dura mantenere la concentrazione. Negli ultimi giri non riuscivo neanche a vedere i riferimenti per frenare. Una roba incredibile. La peggior gara della mia carriera. E continua sempre l'Aish. Tutto il caldo che la moto fa ti viene addosso dal serbatoio. Poi ti entra nei polmoni e non possiamo respirare. Maverick si è ritirato per questo motivo e anche Raul non riusciva a respirare. Infatti ad un certo punto ha perso 10 secondi. Oh, Maverick ha raccontato che a un certo punto non era più lucido di testa e ha deciso di fermarsi per sicurezza. Mentre Raul ha continuato solo per rispetto della casa però appunto rallentando. E ha detto Fernandez quando sei sul dritto dici va bene provo a rilassarmi a prendere un po' d'aria però è impossibile. Non puoi immaginare che situazione. È disastrosa. L'anno scorso con la KTM non c'era niente di tutto questo. È impossibile da gestire. Insomma c'è stata una mezza rivolta del sindacato piloti Aprilia spesso parlando di Aprilia ci chiediamo il perché degli alti e bassi sarà la moto saranno i piloti sarà questo sarà l'altro la risposta è probabilmente tutti e due a questo giro però il problema forse è stato la moto e basta. E già che parliamo di disastri forse è il caso di parlare anche di bestia venerdì pomeriggio 5 Ducati su 8 sono andate in Q2 diretta delle 3 restanti 2 si sono giocate l'ultimo posto in top 10 Digia è rimasto fuori per un decimo e mezzo Alex Marquez è rimasto fuori per due decimi e mezzo e solo una Ducati solo una non si è neanche avvicinata allontanamente alla Q2 diretta ovviamente quella di bestia bestia che ha preso mezzo secondo da Alex Marquez che era la più lenta di tutte le altre Ducati e ha preso più di un secondo da Martin che era la prima delle Ducati il giorno dopo sabato ultimo nelle FP2 che uno dice anche chi se ne frega però poi ultimo in Q1 si è qualificato ultimo in griglia poi nella garetta e nella gara forse abbiamo visto il miglior Bastianini del weekend perché è tornato un po' su e si è perlomeno difeso ora più volte mi hanno accusato di essere un odiatore di bestia semplicemente perché non ne parlo abbastanza oggi lo difenderò a spadatratta vediamo che si inventeranno il mio pensiero a riguardo è il seguente Bastianini non è a posto e fino qui c'erano arrivati tutti però il punto è lasciatelo fare per quest'anno a me sembra di averlo già detto una volta qualche mese fa ma lo ripeto fate finta che non esista è come se fosse ancora fuori si sta riprendendo fisicamente è a posto ma il Bastianini pilota si sta ancora riprendendo sabato c'erano 18 piloti in mezzo secondo che significa che non puoi neanche avere un pelo fuori posto che ti sotterrano lui sono più le gare che ha saltato che quelle che ha fatto e quindi Bastianini torna nel 2024 le gare che sta facendo adesso sono solo una palestra per il futuro fine della storia adesso ho un discorso su Marini perché c'è una roba che non ho capito benissimo partenza della sprint Martin parte maluccio Marini parte preciso arrivano alla prima staccata e Martin dall'esterno fa il cazzo che vuole perché Marini glielo permette roba un po' strana perché non sei solo davanti sei anche interno quindi comandi tu in tutto e per tutto come ha fatto Martin a girare primo va bene che sarà stato aggressivo va bene che avrà frenato fortissimo bla 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 ma c'è lo zampino di quello interno per forza glielo ha chiesto Sanchini dopo la sprint l'hai tenuto lì Martin fino alla staccata mi aspettavo che tu potessi addirittura uscire primo allora in realtà io ho fatto una buona partenza come sempre ma è Orge che ha sbagliato la partenza è partito veramente male però la strategia come l'avevo pensato nella testa era quella di attaccarmi dietro di lui per non fare casino e andare via quindi è stato più che altro che io mi andava bene secondo in quel momento ho detto gli parto dietro gli cerco di stare in scia di non farlo andare via per poi attaccarlo alla fine e anche se uscivo prima dalla prima curva lui mi avrebbe passato perché oggi andava veramente forte nel dritto va fortissimo e quindi sicuramente un modo per passarmi l'avrebbe trovato pensate che anche Martin era rimasto sorpreso di aver girato per primo sai dai Luca è stato un po' tranquillo la prima curva e va bene chiamiamola una scelta tattica Marini non si è voluto impicciare benissimo così anche perché si parla di scelte fatte in frazioni di secondo ci sta però poi no il giorno dopo stessa scena identica a fotocopia proprio dico io e mollali sti freni figlio mio cioè mollali un tantino e gira per primo ma non perché fosse Martin dico perché è Luca Marini da perdere niente sei davanti sei interno e gira per primo comanda tu quattro curve falla una fiammata per la gloria chi se ne frega del resto va bene che non siamo nel cross e l'all shot conta poco però è figo comunque il messaggio qual è è che da appassionato di gare mi sarebbe piaciuto vederlo girare per primo in quella circostanza tutto qui perché dallo stacco alla prima frenata ha fatto tutto meglio lui che quello che era in pole e quindi non girare primo è come se ne manca un pezzo cioè al netto delle scelte di strategia dico e che poi spulciando un po' in giro è venuto fuori che non sono stato l'unico a pensarla in quel modo ma vabbè tanto sono chiacchiere e basta domenica al solito dopo la gara ho pubblicato i risultati su instagram con un breve commento a caldo in questo commento c'era una riflessione sulle gomme una domanda se per certi versi è sempre colpa delle gomme sarà mica che oggi dobbiamo ringraziare Michelin perché la colpa diventa merito che non era una provocazione ragazzi me lo sono chiesto davvero cioè se le gomme hanno sempre colpa quando le gare fanno schifo deve per forza esserci anche un merito delle gomme ogni tanto quando le gare sono meravigliose come quella in Talandia per forza la domanda era una le risposte potevano essere molteplici una risposta in particolare mi ha dato da pensare non poco quella del managerone cattivone Livio Suppo che ha scritto le gomme che degradano assicurano spettacolo eh capito? e se vi dicessi che ha ragione? io sono uno di quelli che ogni 3x2 si lamenta della gestione gomme sta diventando come la formula 1 vergogna scandalo il pilota più veloce non vince e vincono quelli più lenti che gestiscono le gomme meglio bla 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 schifo eccetera poi però basta andare indietro di qualche anno per rendersi conto del fatto che ci sono state innumerevoli annate di gare noiose a morte perché il pilota più veloce partiva e spariva all'orizzonte intoccabile perfetto velocissimo ma anche inguardabile da un punto di vista di intrattenimento e questo è il nocciolo della faccenda lo sport deve essere davanti allo show il pilota più veloce deve vincere eccetera 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 ma poi le gare non le guarda più nessuno neanche noi che ci lamentiamo delle gomme che degradano e la moto 2 è l'esempio perfetto gomme di marmo moto equivalenti trenini infiniti 9 volte su 10 e quindi sarà mica che suppo ha ragione yet again glielo ho chiesto e lui mi ha risposto così io sono convinto che gomme che degradano garantiscono uno spettacolo maggiore perché perché livellano di più le prestazioni fra le moto fa sì che tutti i piloti debbano comunque fare una strategia per non non possano tirare tutta la gara e quindi questo fa sì che ci sia più spettacolo più sorpassi e anche più completezza da parte del pilota perché vince comunque più forte ma che deve essere anche stato in grado di gestire meglio le gomme quindi capisco che ci sono quelli che dicono no le gomme devono tenere dal inizio da fino uguale ma questo sarebbe molto bello per gli ingegneri perché le gomme funzionano meglio ma chi ha un decimo di vantaggio se lo tiene per tutta la gara le gare sono quelle poi a trenino noiose in piste come qua in Thailandia o Phillip Island dove solitamente il degrado delle gomme è importante e l'abbiamo visto anche domenica scorsa le gare per noi appassionati sono secondo me molto molto meglio gli altri due argomenti del fine gara sono stati il solito verde e le penalità legate alla pressione delle gomme sapete cosa penso del verde non mi ripeto la regola delle pressioni come ho già detto quando se la sono inventata un po' di tempo fa non è altro che una boiata che serve solo come scusa per mescolare le carte in maniera artificiale e quindi l'unica altra cosa da dire è la seguente attenzione raggruppo i due argomenti e parto con un disclaimer perché c'è sempre qualcuno che fraintende queste due regole già esistevano prima del gran premio sono state applicate correttamente con il regolamento alla mano le penalità sia Binder che Aleish se le tengono è giusto applicarle già 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 quando ci si lamenta però è per cambiare le regole stupide per il futuro non come condono per qualcosa che è già successo questo è il disclaimer il concetto invece è il seguente da spettatori noi ogni regola per vedere se funziona dobbiamo prenderla e con l'immaginazione applicarla per l'assegnazione di un campionato del mondo quindi nel caso del verde dovete immaginarvi di essere a Valencia ultima curva dell'ultima gara lotta finale tra Francesco e Martin uno dei due vince gara e mondiale ma passa un minuto dopo il traguardo viene fuori che il vincitore ha pizzicato un centimetro di verde non gli ha dato nessun tipo di vantaggio come è successo tre volte con Binder però il sensore è scattato penalità retrocesso mondiale assegnato all'altro a tavolino volete questo? se sì tenetevi la regola del verde semplicissimo stessa cosa per la regola delle pressioni mondiale vinto da uno sotto la bandiera a scacchi poi arriva la tabella excel con le pressioni a infrazione 0,3 bar sotto la soglia mondiale assegnato all'altro a tavolino se volete un mondiale assegnato dai gommisti le valvole e i tip top tenetevi la regola delle pressioni non c'è molto altro per chiudere la gara dei tre davanti io ragazzi non ho parole per descrivere che razzo di garone che hanno fatto e li ringrazio Martin è stato un vero fenomeno l'ha voluta a tutti i costi ha rischiato quanto basta è stato sveglio si è difeso nella maniera giusta nei momenti giusti veramente la perfezione e non solo domenica la perfezione per tre giorni di fila impressionante Binder ne ho parlato nel video scorso confermo tutto quello che ho detto e per il resto c'è solo da guardarlo e godere e Francesco intruppato all'inizio ha dovuto fare a cazzotti anche con la sua ombra a momenti è tornato su ha osato quando c'era da usare e alla fine si è dovuto accontentare il mio parere sulla battaglia con Martin è che non gli manchi velocità gli mancano solo dei venerdì più convincenti forse che poi si traducono nell'essere più pronti al sabato mattina che poi si traduce in partire più avanti in gara e quindi avere meno chance se non addirittura zero chance di dover fare a carenate con Marquez giusto per rimanere a galla nei primi giri perché poi quando sei lì in mezzo in quelle situazioni o fai a carenate e le dai oppure le carenate le prendi e affondi non c'è l'opzione mi faccio gli affari miei non esiste a metagruppo anche solo per galleggiare devi scazzottarti e vincere le scazzottate e con un mondiale in mezzo e un Martin del genere Francesco non ha tempo di fare a cazzotti col primo che passa tutto qui comunque per una volta dico sinceramente belli e bravi tutti li ringrazio perché ci hanno fatto godere figata totale grazie a tutti